Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Mr. Mario e oggi siamo qui su Minecraft Pocket Edition ragazzi in questa puntata avevo intenzione di fare un porto e quindi niente possiamo iniziare ragazzi allora io userò per questo porto, userei la legna, quella di abete, poi userei i tronchi dove sono? Quella di abete, anzi quello di qua c'è meglio poi userei ragazzi, poi dobbiamo, non dovremmo, prendere per forza barca di legno, le lastre di roccia ci servono, l'alluminite pure e l'uovo di villico e infine ci serve, ci serve niente, non ci serve niente d'accordo ragazzi, possiamo iniziare il nostro porto prima di tutto, ecco cosa ragazzi, prima di tutto prenderei degli scalini in legno di abete e farei così, ecco, da 3, sì così poi farei con legno di abete, inizierei a fare così ok ragazzi, così va benissimo, poi fare qua da 3 e chiudere il tutto in teoria ragazzi, più che un porto saranno le giubarche ok ragazzi, ora prendiamo il legno di quercia facciamo così ok, così faremo aspettate che ho sbagliato un attimo e poi stessa cosa la faremo di qua ok ragazzi, proprio così ok, così mi piace, mi piace sì sì, mi piace tanto e qua va bene, ne mettiamo qualcuno se magari non continuassi a sbagliare sarebbe molto meglio eh, è anche quello sotto ok, va benissimo ora un altro di qua e ancora qua ecco, così poi questo qua ok ragazzi, proprio come volevo io e questo e questo così così ok ragazzi, perfetto perfettissimo poi stessa cosa di qua quindi metto un pezzo di legno qui prendo questo e faccio così sì va benissimo ragazzi ora si prende questo e si fa così la strada al 2 non troppo lunga ecco qua così dovrebbe andare bene cioè non proprio benissimo perché spara la strada ecco, così va benissimo ragazzi questo porto va benissimo così quindi allora iniziamo a mettere delle barche scusate ok così così poi così ragazzi proprio così no ragazzi adesso ho sbrogliato un attimo solo aspettate così molto meglio molto più facile così ok ragazzi ora così e qui sorge un piccolo problema eh ragazzi ecco perché sorge un piccolo problema perché in teoria ecco qui ragazzi così va molto meglio sì sì mi piace mi piace ok ragazzi proprio come volevo io quindi ragazzi qui inizia il bello il bello mettiamo vabbè questi perché se no non è bello e poi questo cioè questo ok ragazzi ok così una pecorella è sua figlia mentre mangia nel terreno guarda 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 che bug vabbè non perdiamo tempo perché stiamo già finendo il tempo del video quindi ragazzi mettiamo qui 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 una barchetta qui ne mettiamo un'altra qui mettiamo qui mettiamo questo qua la barchetta così ragazzi proprio così poi vabbè non lo userò mai il porto è bello da vedere mi piace ok è una qua poi un'altra qua un'altra qua qua ci mettiamo la legna sì sì mi piace mi piace tantissimo prima però ok così è molto più facile ok ragazzi ok così mi piace mi piace tantissimo devo rimetterne uno per forza anche qui ok ragazzi ok 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 quindi a questo punto mettiamo qui due lì e il nostro porticello è finito ok ragazzi questo era il nostro porticello ed era proprio questo qui quasi quasi però fammi mettere questo qui invece facciamo così ok così ci toglie così l'alluminite illumina anche se è sera qua vabbè non si mette niente questo si mette qua e abbiamo finito il nostro porticello va bene ragazzi se il video vi piace lasciate un commento e vi piace qua sotto commentate iscrivetevi e noi ci rivediamo un prossimo video ciao ragazzi ciao